Da quando ho aperto il mio blog, sono sempre stata molto attenta a pubblicare informazioni e recensioni sui prodotti per la cura dei nostri bambini. I miei lettori hanno diverse opinioni, eppure c'è un prodotto che ha messo d'accordo proprio tutti. È la pasta di Hoffman Sella. Si tratta di una preparazione galenica usata per combattere dermatiti o semplici irritazioni della pelle, causate dalla permanenza del sederino a contatto con feci e urine, o nella prevenzione e nella cura delle piaghe da decubito. L'ossido di zinco forma una barriera contro l'umidità, e in associazione all'olio di oliva nasce un prodotto dalla spiccata azione lenitiva e anti-arrossamento. Le parole sono importanti, ma i fatti lo sono ancora di più.